Alla televisione hanno detto che non si vuole uffire, c'è qualcosa là fuori che ci vuole punire. Per la nostra arroganza, per il modo di agire, allora ho pensato che era giusto, così si è un po' esagerato, con un gioco malato vietato uscire per non morire. C'è qualcuno là fuori che ci vuole far capire che forse è arrivato il momento, è ora di rallentare. Basta con l'arroganza di questo modo di agire, allora ho pensato che era giusto, così si è un po' esagerato, con questo gioco malato vietato uscire per non morire. E mentre guardavo il croce fisso lassù, ho visto una lacrima cadere giù. E mentre guardavo il croce fisso, ho pensato uscire per non morire. Basta con l'arroganza di questo modo di agire, basta con l'arroganza di questo modo di agire, per non morire. Basta con l'arroganza di questo modo di agire. Grazie. Grazie.